Ciao ragazzi, buon tornati in questo nuovo canale, quest'oggi voglio che entriate tutti nel mio club, si chiama tutti dovete entrare per forza, i killer russi, ci sono io. Ragazzi, da quando non gioco è cambiato, sono arrivato a 20 brawler, sono a guardare una live di Ferre, vabbè lasciamo stare, e ho trovato Bibi, ho trovato Bibi, e poi sono 3 nuovi brawler Sandy, che ora la proverò, per farmi vedere, allora Sandy. Sandy è praticamente una ragazza, spiegherò la sua storia, che poverina è stata abbandonata dai suoi genitori. E praticamente lei, cioè non scherzo, praticamente Sandy è una, diciamo, streghetta, viene sempre dal mondo di Eugenio e di Tara, eh, perché, cioè, guardate, diventa visibile, cioè così, quando vedete, quando non c'è il coso, è invisibile, però quando vedete che c'è, vi può vedere l'avversario. Quindi dovete stare attenti. Dopo, voglio farvi vedere una cosa, per esempio, se vado qua, no? Ora guardate, non mi vede, per ora mi vede. Non mi vede. Dopo, un po' lento. Dopo, ora vi farò, 8-bit l'avete visto, però ve lo faccio rivedere, allora, 8-bit sarebbe una macchina, diciamo, degli anni 90 di gioco. Vedete, praticamente, Allora, avete una... Tira delle cose pissellate e poi tira, diciamo, una scheda di gioco. Mettiamone una, due vite a testa, ok? Nel senso, se fate il primo posto, eh... Continuiamo, ok? Se perdete, perdete una vita, ok? Anche il secondo posto vale. Cioè, praticamente, al posto di colpire voi, colpisce... E poi vi faccio vedere il nuovo brawler, MZ, che uscita... MZ. È un nuovo brawler che hanno fatto uscire per quest'anno di Halloween. È bello. Ragazzi, allora, il secondo canale... Non lo guardate più. Guardate sul primo. Cioè, praticamente fa... A ogni persona che entra nel raggio della sua UTI... Non mi ricordo quanto di danno. Caccia il penultimo, caccia il penultimo e nel frattempo accetta. Caccia il penultimo. 12.500. Ma i requisiti per entrare in casa, quanto sono adesso? 15.000. Allora, alza, lì, zio. Rialziamoli. Eh, ma non si può. Non si può, mi chiede. Eh, ma non si può. Cioè, ragazzi, guardate, per questo è figa, diciamo, la schiena, mi hanno detto. Poi sono uscite tantissime schiena. Per esempio, ora io... Cioè, speriamo che stesse in mezzo a tantissimi... Ragazzi, chi se ne frega, ora andiamo avanti, oltre a tutto. Io sono a venti brawler. Ragazzi, oh, guardate, c'è, manca pochissimo per arrivare a 8 bit. Poi, on e z si sblocca a 800. Dopo ancora un bel po' per arrivare quasi alla fine del gioco. Manca... Un bel po'. Non fare goloso che può rappresentare. Sto citando un 17.000. Dark, sai dove indirizzare? Scusami, Luke. So che sei andato lì solo per parlare a Cimici. Sì, sì, sì. Vabbè, ragazzi, continuiamo. Allora, ora farò... Sì, posso potenziarmi, non lo potenzo. Mancano... Allora, faremo... Allora, dopo vi faccio vedere. Allora, questa è la nuova sopravvivenza che hanno messo per all'unilatore e anno presto, ve lo assicuro. Praticamente, o siete invisibili, però ogni secondo vi toglie... Ora, ve lo faccio vedere. Ogni secondo vi toglie... Ogni secondo vi toglie 46 di vita, se non sbaglio. E se per caso succede, il tuo clan fa la stessa fine dell'ultimo che ha detto Zaccamanai. No, 60, 60. Esplode! Ora vedo... Ora vedo... E' praticamente per curarvi dovete colpire gli avversari. Cavolo! Cavolo! No, no, raga, no, raga, devo ripera, raga, devo ripera, raga, devo ripera, raga, devo ripera... Infatti per questo io odio questa modalità. Perché con il tè... Il brawler più buono per usare sono... Peek... Penny... Jesse... O Bombardino. Però io infatti odio... Ma comunque scatto... Ma chi è comico? Scusate... Yoke... Non sto giocando con Yoke, Yoke... Se ne è andato bene che Yoke si è uscito... Avrà detto basta giocare con Yoke, si è assolutamente amato... Si è probabile... Vabbè... 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 Sì, abbiamo un nuovo abbonato mister, un attimo di attenzione, si chiama Kebab Trancino... In chat ci sono già le persone che spammano le emoji del nuovo abbonato... Eh, vabbè... Idonation! Da chi ninja? Ci siamo tantissimi... No ragazzi... Lo vado a pushare... Ah... Vedo un colt sopra quello di primo con la ulti, quindi non ci vado a pushare... Cioè... Io sono un 440 di vita perché ho più... Diciamo... Ubrellato colto... Allora... Lo vedo quattro paura sopra di me... Cerca... Facciamo dei colpi così a caso... No, non riesco a prendere... No... Schivo i colpi, schivo i colpi... Mettete dentro un'oretta... Cavolo per ora la ulti... Ora la ulti... Devo fare giro giro a tonno... Casca il mondo... Casca la terra... Tutti qui per terra... Ecco... E' stato preso... E' stato preso... E' stato preso... Mi vado a prendere quello che fa uretto... E poi lo rincontro dall'altra parte... Che lo uccido... Così... E dopo uccido anche l'altro... La 10 power up... Ce la faccio... Ce la faccio raga... E' primo... Recupero tutte le coppe... Che ho perso prima... Quindi... 10 coppe... Fatto... E' buono raga... Prope 10... Narcos ha raidato... 10... E' vero... Top 20... Mangia... Ma ma... 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 Soprano... Un'app dove non ti fa inserire... Non ti fa... Inserire i mail e fare una live gratis... Ma... Cioè raga... Perché... Sola anche con noi... Abbia... Abbiam fatto questa cosa... No raga... Io sono primo... Cioè... Se non esco... Cioè... Guarda... Eh... Di tutto... Di tutto... Ma... Di tutto... Giornati... cioè raga io scopro alla fine che narcos non gioca più e non ci dico manco i motivi per farlo così vabbè sono ancora primo eh cioè dico ragazzi però lasciami stare no ragazzi ciao bello è vicino a me è vicino a me oggio sia la famiglia però più che altro è raga allora siamo arrivati i secondi no però non preoccupa raga però non preoccupa è sempre buono raga ora le faccio vedere la fa gemme bella mappa con il cimitero però poi ragazzi se avete visto il nuovo aggiornamento c'è di fortnite scrivetelo no faccio anche le live su c'è sulla play ho 1200 iscritti sulla play se avete la play guardatemi però lasciamo stare vabbè raga sono scarsino un po' però in questo team se non ci sono io devo dire la verità per ora c'è sto salvando i miei compagni al c'è al rischio per esempio per ora sono dopo no cavolo ho sprecato l'oti per niente per ora ho riconquistato l'oti vecchè non c'è raga ma io sono un bomber ho salvato i miei compagni come se fosse il pane di caldo ordine così così cavolo c'è muoio pero has to stand聯aghi su e non ci facciamo perdere no raga, raga non possiamo lasciarli vincere, non possiamo no 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 no, raga, 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 non deve vincere Felix, non deve vincere Felix uccidi Felix io vado a decidere Felix per forza, dobbiamo uccidere Felix c'è un cavolo, raga, 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 I più forti fanno schifo Eh ciao ciao Cattia Aspè scriviamo in Juventus Eh non è vero in parte Perché qualcosa di quello cattito è vero In realtà Non quello che riguarda il mio clan Probabilmente però Raga io sono in live Adesso non posso stare qua A parlare proprio liberamente Di qualsiasi cosa ok Però Quello che potevo dire ve l'ho detto Scusate Lo sbadire del leone Bye Mark Beh ragazzi ci vediamo nel prossimo video Ciao